Il? Inviato dal bufeira Jose Mourinho sulla panchina della nazionale portoghese? Mai dire mai! Ma soltanto in futuro. Perché come anticipato dal Corriere dello Sport Stadio? Il tecnico ha detto no alla possibilità del doppio incarico e adesso è solamente proiettato sulla squadra giallorossa. Niente Portogallo per ora, la testa è solamente sulla Roma e sulla ripresa della stagione tra campionato e coppe. A confermarlo anche Stefano Sharaoui nell'intervista rilasciata ai media presenti ad Albufeira. In Portogallo, tra cui il Corriere dello Sport Stadio, sinceramente non abbiamo parlato tra noi giocatori della possibilità di vederlo sulla panchina del Portogallo. Perché vediamo Mourinho come tutti noi, concentrato sulla Roma. E l'allenatore di questo club è basta. Lo vediamo ben concentrato sugli obiettivi che abbiamo, anche da come ci parla nello spogliatoio. Da come è presente nella partita. Vuole darci sempre le indicazioni giuste nello spogliatoio. Lo vediamo sereno e con la testa su questa squadra. È una persona molto di cuore. Istintivo. Lo vediamo bene e per lui l'importante è solo una Roma. Vuole fare bene con questa squadra. Come tutti noi giocatori. Noi ci auguriamo che possa rimanere sempre alla Roma. Virgola.